Nello scorso video abbiamo iniziato a parlare del moto parabolica. Abbiamo visto la parte 1 dove abbiamo calcolato il tempo che impiega il corpo ad arrivare alla massima altezza e abbiamo anche calcolato l'altezza massima. In questa lezione ci occuperemo di altre quantità. Andiamo prima di tutto a calcolare il tempo che impiega il corpo ad arrivare al suolo. Ovviamente il suolo rappresenta questo asse qui, infatti l'asse x io l'ho inserito al suolo. E' chiaro che il corpo che cosa fa? Visto che fa una parabola, all'inizio sale, arriva una certa altezza, poi scende e quindi tocca il suolo. Quando il corpo tocca il suolo che cosa succede? E cosa succede diciamo alle coordinate classiche cioè y, v o x? Perché ovviamente voi le condizioni dovete imporle su queste tre quantità. Beh, sicuramente esiste un tempo t con 2 tale che nel momento in cui il corpo arriva al suolo, arriva qui ad esempio, è chiaro che la sua componente lungo y sia 0. Quindi significa che y al tempo t con 2 è pari a 0. Ok. Dobbiamo utilizzare, visto che siamo sull'asse y, in modo rettilineo uniformemente accelerato. Quindi possiamo scrivere y con 0 più v con 0 seno di alfa per t2 meno un mezzo g t con 2 al quadrato uguale a 0. Ovviamente la y con 0 è 0, noi lo sappiamo. E quindi cosa possiamo scrivere? Beh, ci rimangono queste due cose qui. Allora cancelliamo direttamente qui, ci rimangono questi due termini. Queste sono equazioni di secondo grado non completi. Infatti il termine noto è pari a 0. Quando il termine noto è pari a 0 dovreste già sapere che basta mettere in evidenza l'incognita e abbiamo risolto. Infatti mettiamo in evidenza t con 2 e ci viene come risultato v con 0 seno di alfa meno un mezzo g t con 2 uguale a 0. Per la legge di annullamento del prodotto, questo prodotto è pari a 0 nel momento in cui il primo termine è pari a 0 e il secondo termine è pari a 0. Quindi t con 2 uguale a 0 è la prima soluzione. Poi v con 0 seno di alfa meno un mezzo g t con 2 è pari a 0. Ora la prima soluzione da un punto di vista matematico ha senso perché chiaramente dovete trovare due soluzioni in quanto vi siete imbattuti in un'equazione di secondo grado. Però da un punto di vista fisico questa soluzione non ci serve. Cioè ha senso da un punto di vista fisico ma non è quella che stiamo cercando. Perché ha senso da un punto di vista fisico ma non è quella che stiamo cercando. Allora noi abbiamo impostato che deve esistere un tempo, un istante di tempo dove la y è pari a 0 in quell'istante di tempo. Ma all'inizio il corpo si trova in una posizione y pari a 0. Infatti a t con 2 pari a 0 ci sta dicendo, l'equazione ci sta dicendo che al tempo t con 2 pari a 0 la y è pari a 0. Ma questa cosa è giusta perché al tempo t uguale a 0 sarebbe qui. Ma qui il corpo si trova in un'altezza pari a 0. Quindi questa soluzione ha senso da un punto di vista matematico e fisico però non è quella che ci serve. No, quella che ci serve ovviamente è questa. Allora come facciamo a risolvere questa? Basta portare questo all'altra parte. Quindi meno un mezzo g t con 2 uguale a meno v con 0 seno di alfa. Allora adesso cosa bisogna fare? Beh, semplicemente basta fare una serie di passaggi algebrici. Cioè moltiplicare tutto per meno 1. Quindi cambiare il segno. Dividere tutto per g e moltiplicare per 2. Quindi t con 2 è pari a 2 v con 0 seno di alfa diviso g. Anche questa formula è molto frequente. Quindi potete anche impararla ma vi consiglio come al solito di ragionare sui passaggi che abbiamo fatto. Da notare una cosa abbastanza importante. Il tempo totale di volo del corpo, cioè il tempo che impiega il corpo per arrivare al suolo, che è t2, quello che abbiamo calcolato adesso, è venuto il doppio di t con 1. Allora vi ricordo che t con 1 era il tempo che impiegava il corpo per arrivare alla massima altezza. Ed era uguale, se vi ricordate nello scorso video, era uguale a v con 0 seno di alfa diviso g. Se vi siete persi quel video andate indietro. Allora vedete che sono praticamente la stessa cosa solo che qui c'è un 2, quindi è il doppio. Quindi cosa possiamo scrivere? Questo è uguale a 2 t con 1. Ora questa cosa ha senso, cioè stiamo dicendo che il tempo che impiega il corpo per arrivare al suolo è il doppio del tempo che il corpo impiega per arrivare alla massima altezza. Beh questa cosa ha senso perché in questo caso la parabola è simmetrica. Quindi possiamo dire che questo risultato non è casuale. Infatti quando la traiettoria del corpo forma una parabola simmetrica, simmetrica significa quello che è, se voi tagliate a metà la parabola, quello che c'è a sinistra è uguale a quello che c'è a destra. Ora, il tempo di volo in questo caso è uguale al tempo che impiega ad arrivare alla massima altezza moltiplicato per 2. In altri casi che ho trattato nell'esercizio di fisica 1, il tempo di volo totale non è dato dal doppio di t con 1, non è dato dal doppio del tempo che impiega ad arrivare alla massima altezza, ma è dato dalla somma di due termini, di due tempi. Il tempo che il corpo impiega ad arrivare alla massima altezza più il tempo che impiega il corpo a cadere di caduta libera. Quindi in generale t con 2 è pari a t con 1 più t con 3, dove t con 1 è il tempo di altezza massima, t con 3 è il tempo di caduta libera. Ovviamente questa formula potete risparmiarvela nel momento in cui la parabola è simmetrica. Allora, quali sono i casi in cui la parabola non è simmetrica? Ve lo faccio vedere un attimo. Supponiamo di voler lanciare il corpo da questa altezza. Se io lancio da questa altezza, con una certa velocità v con 0, vedete chiaramente che la parabola non è simmetrica, perché manca questa parte qui. Ok, ovviamente poi nell'eserciziario ho trattato questi esercizi. Adesso cosa andiamo a calcolare? Beh, andiamo a calcolare la gittata. Allora, questo è un esempio classico, comunque una cosa classica da calcolare, ed è anche abbastanza famosa. Allora, la gittata corrisponde alla distanza tra l'origine e la posizione del corpo sull'asse LX nel tempo t con 2. Allora, il corpo arriva ad un certo istante di tempo, ad esempio qui al suolo, e che cosa succede? Che questa distanza, cioè la distanza che c'è tra l'origine e questo punto, rappresenta D, che è pari alla gittata. Allora, come facciamo a trovare la gittata? Beh, è banale, perché per come ve l'ho enunciata vi ho già dato la risposta. Infatti, semplicemente, si trova calcolando la coordinata X al tempo t2, perché ovviamente questo punto qui rappresenta proprio la scissa. Quindi, semplicemente, D è pari che la gittata è pari a X calcolata al tempo t2. E questa che cosa è uguale? Noi sappiamo che la X è uguale, in generale, a X con 0 più V con 0 coseno di alfa per t con 2. Allora, X con 0 è pari a 0, quindi questo è uguale a V con 0 coseno di alfa. Noi sappiamo che t con 2 andiamo a sostituire pari a questo, quindi per 2 V con 0 seno di alfa diviso G. E questa che cosa è uguale? Ci tira fuori un risultato 2. V con 0 per V con 0, ovviamente, vi fornisce V con 0 al quadrato coseno di alfa seno di alfa diviso G. Quindi, questa è la gittata, ovviamente non ha senso imparare questa formula perché vale soltanto in questo esercizio, in questo particolare caso. Se cambiate il sistema di riferimento non vale più. Quindi significa che dovete semplicemente imparare i ragionamenti. Se dovete calcolare la gittata, vi calcolate il tempo che il corpo impiega a arrivare al sole e poi vi calcolate la X a quel tempo. Adesso chiamiamo la gittata con il nome D al posto di, chiamiamo scusate, la gittata con un altro nome perché adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire, dobbiamo capire quando è che si ha la gittata massima. Per avere la gittata massima dobbiamo massimizzare questa funzione, questa D. E quindi cosa dobbiamo fare? Allora, ovviamente questa D da cosa dipende? Ovviamente dipende da alfa. Quindi, cosa andiamo a fare? Allora, L di alfa la chiamiamo 2v con 0 al quadrato coseno di alfa seno di alfa diviso G. Perché io ho cambiato nome? Perché fra poco dovremo calcolare la derivata. Quando dovete massimizzare una funzione, dovete calcolare il massimo e il minimo, dovete studiare il segno della derivata prima. Quindi andiamo a calcolare questa derivata. Allora, intanto, prima di calcolare questa derivata, facciamo un piccolo passo indietro con la trigonometria. Dovreste già sapere che 2 coseno di alfa per seno di alfa, cioè quello che è presente qui, vedete, questi tre termini, in realtà rappresenta un unico termine ed è pari a seno di 2 alfa. Andiamo a sostituire. Allora, quindi viene 2v con 0 al quadrato seno di 2 alfa diviso G. Questa è una formula trigonometrica. Ovviamente questo ci semplifica le cose. Adesso cosa dobbiamo fare? Calcoliamo questa derivata, la derivata prima di L di alfa in d alfa, ovviamente, perché è la variabile di derivazione. Allora, questa che cosa è uguale? La derivata del seno è pari al coseno, però qui c'è un 2 alfa, quindi bisogna moltiplicare per la derivata di 2 alfa. Allora, ovviamente, che cosa succede? Allora, intanto qui non so perché ho ricopiato il 2, ma ovviamente non c'è, perché 2 coseno seno di alfa, cioè questi tre termini, sono pari a seno di 2 alfa, quindi ovviamente il 2 non esiste. Allora, questa che cosa è uguale? Quindi 2, perché ovviamente c'è il 2 in quanto questa è una derivata di una funzione composta. 2 per v con 0 al quadrato diviso G, ovviamente è una costante, quindi rimane così com'è, e qui mettiamo coseno di 2 alfa. Allora, perché ripetiamoci questo 2? Perché la derivata del seno di 2 alfa è uguale a coseno di 2 alfa per la derivata della funzione che sta all'interno della parentesi, quindi per 2. Allora, l'angolo alfa noi sappiamo essere compreso tra 0 e 90 gradi, quindi 2 alfa è compreso tra 0 e 180. Allora, noi sappiamo, ripeto, alfa è compreso tra 0 e 90 gradi, e quindi significa che 2 alfa è compreso, basta moltiplicare tutto per 2 tra 0 e 180 gradi. Ok, dobbiamo studiare adesso il segno di questa derivata, quindi semplicemente scriviamo la seguente cosa, 2 v con 0 al quadrato coseno di 2 alfa diviso G maggiore di 0. Ovviamente, 2 per v con 0 al quadrato diviso G, questa quantità, noi sappiamo già essere positiva, perché 2 è un numero, G è 9,81 e v con 0 è al quadrato. Quindi significa che il segno di questa funzione dipende semplicemente dal coseno, quindi questo implica coseno di 2 alfa maggiore di 0. Vi ripeto che stiamo facendo tutti questi passaggi per trovare l'angolo di gittata massima, cioè quale angolo bisogna dare per far arrivare il corpo più lontano possibile. Ora, che cosa dobbiamo fare noi? Allora, vi ho detto già prima che 2 alfa è compreso tra 0 e 160 gradi, però dobbiamo fare una distinzione perché il coseno è positivo, qui dobbiamo capire quanto è che questo coseno è positivo. Allora, il coseno è positivo tra 0 e 90 gradi ed è negativo tra 90 e 180. Infatti, il coseno passa da 1 a 0 e poi ovviamente da 0 deve andare a meno 1, quindi è negativo nel secondo quadrante. Quindi cosa significa? Che possiamo scrivere 2 alfa compreso tra 0 e 90 gradi. Allora, questa scrittura cosa significa? Significa semplicemente che quando 2 alfa è compreso tra 0 e 90 gradi, allora viene rispettata questa disequazione, cioè coseno di 2 alfa è maggiore di 0. Adesso cosa dobbiamo fare? Dividiamo semplicemente tutto per 2 e otteniamo che quando alfa è compreso tra 0 e 45 gradi, allora succede che questo coseno, questa funzione è positiva. Questo vuol dire che fino a 45 gradi il coseno è positivo, dopo 45 gradi il coseno è negativo ovviamente, ed è proprio questo 45 gradi il punto di massimo che stavamo cercando, perché nel momento in cui stiamo fino a 45 gradi è positivo. Se superiamo i 45 gradi, ovviamente qui non c'è l'uguale, se superiamo i 45 gradi, anche qui non c'è, perché noi stiamo dicendo maggiore di 0, quando è 90 gradi è uguale a 0. Quando superiamo i 45 gradi otteniamo un valore negativo, quindi significa che a 45 gradi abbiamo il suo valore massimo. Beh, questa è una cosa che in realtà dovreste già sapere, infatti quando voi lanciate una pietra o comunque una qualsiasi cosa, per farla andare alla massima distanza dovete semplicemente effettuare il lancio a 45 gradi. Se dovete farla arrivare invece all'altezza massima dovete lanciarlo a 90 gradi. Allora adesso cosa ci resta da fare? Non ci resta che dimostrare, perché l'abbiamo detto solo a voce ma l'ha dimostrato, dimostrare che la traiettura del corpo è proprio una parabola. Ma una parabola come? Allora vediamo un attimo, questa parabola ha una concavità verso il basso, vedete che va a scendere. Quindi cosa significa? Dobbiamo dimostrare ovviamente questa cosa come facciamo. Allora semplicemente dobbiamo scrivere le equazioni del moto parabolico. x di t è uguale a che cosa? È uguale a v con 0 coseno di alfa per t, perché x con 0 è 0. E y al tempo t è pari a che cosi? y con 0 che è 0, abbiamo v con 0 seno di alfa per t meno un mezzo gt al quadrato. Ora da queste due formule possiamo ricavare l'equazione cartesiana della curva. Come facciamo? Bisogna calcolare y in funzione di x. Quindi dalla prima ci ricaviamo la t. Allora senza farmi riportare x al tempo t, scriviamo direttamente x. Ovviamente si riferisce al fatto che la x dipende da t. Allora cosa dobbiamo fare? Ricaviamo la t da questa prima equazione. Quindi t è uguale semplicemente a x diviso v con 0 coseno di alfa. Cosa ci abbiamo guadagnato? Questo t lo andiamo ad inserire alla seconda equazione. Quindi calcoliamo la y calcolata in x che è uguale a che cosa? Allora è uguale a v con 0 seno di alfa. Al posto di t inseriamo questa. Quindi x diviso v con 0 coseno di alfa meno un mezzo g. Allora qui dobbiamo mettere questa quantità al quadrato. Quindi x al quadrato diviso v con 0 quadro coseno di alfa. Beh diciamo che abbiamo già risolto. Perché? Perché come vedete questa è un'equazione di secondo grado. Le equazioni di secondo grado sono associate a che cosa? Beh sono associate alla parabola. Però facciamo altri piccoli passaggi per farvi vedere una cosa e per renderla più pulita. Allora intanto seno diviso coseno fa tangente di alfa. V con 0 e v con 0 si semplifica. E quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che questo è uguale a tangente di alfa per x meno un mezzo. Queste costanti le mettiamo da parte. Quindi g diviso v con 0 al quadrato coseno di alfa al quadrato per x al quadrato. E adesso si vede più chiaramente che questa rappresenta un'equazione della parabola. Ora questo tangente di alfa lo chiamiamo k1 ad esempio e questo lo chiamiamo k2. Allora si vede chiaramente che k2 è una quantità negativa. Essendo il coefficiente della x al quadrato negativo allora significa che questa parabola ha una concavità verso il basso. Se il coefficiente della x al quadrato era positivo allora la concavità era verso l'alto. Prima di chiudere questo video voglio farvi un piccolo riepilogo di quello che dovete utilizzare nel momento in cui siete di fronte a un moto parabolico. Dovete utilizzare questo trist di equazioni. Allora abbiamo x di t uguale a x con 0 più v con 0x per t. Poi abbiamo y al tempo t che è uguale a y con 0 più v con 0y per t meno un mezzo g t al quadrato. E poi dovete utilizzare vy al tempo t uguale a v0y meno g per t. Quindi utilizzate queste tre forme in maniera saggia. Semplicemente dovete sapere che la prima è riferita a un moto rettilineo uniforme quindi è riferita all'asse x. Mentre queste due sono riferite a un moto rettilineo uniformemente accelerato cioè all'asse y. Poi dovete sapere che la x è sempre costante istante per istante perché non ha accelerazione. L'altra cosa da sapere è che le quantità che si possono calcolare in un moto parabolico ovviamente sono infinite. Come sono infiniti gli esercizi. Nei momenti in cui vi cambiano un qualcosa quelle formule che abbiamo calcolato in questi due video non valgono più. La cosa importante di questi due video non sono le formule finali ma semplicemente la cosa importante è il ragionamento che abbiamo fatto per arrivare a quella formula. Come al solito dovete imparare a ragionare e non dovete utilizzare la memoria. Ovviamente vi ripeto che gli esercizi su questo moto parabolico li trovate nell'eserciziario di fisica 1. Con questo video abbiamo terminato. Come al solito se il video è piaciuto metti un mi piace, commenta, condividi e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.